Numerosi divieti di sosta istituiti con ordinanze emanate dalla direzione quarta della Polizia Municipale che interesseranno nei prossimi giorni altrettante vie cittadine per consentire l'esecuzione di alcuni lavori. Martedì 19 agosto dalle ore 7 alle ore 17 infatti scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata in via Traversa Elena per consentire il regolare svolgimento dei lavori di potatura di un rampicante fuoriuscente dal bastione della Villa Cordova. L'istituzione del divieto di sosta avverrà sino alla fine dei lavori. Altro divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati riguarderà via Le Trieste e Viale della Regione dal 25 al 29 agosto dalle ore 7 alle ore 17, limitatamente ai tratti dove saranno eseguiti i lavori di scavo e la posa delle fibre ottiche della rete telefonica, tratti che saranno evidenziati da un'apposita segnaletica verticale mobile che sarà posizionata di volta in volta dalla ditta esecutrice dei lavori. Inoltre è stato prorogato sino al 5 settembre il divieto di sosta con rimozione forzata in via Piazza Armerina e in via Cavour per consentire a una ditta privata di proseguire i lavori di manutenzione straordinaria della copertura del fabbricato ricadente nella zona.